Abbiamo due squadre differenti, con molti temi importanti in campo, quindi abbiamo un gioco diverso, perché loro vanno molto contro 16 centrocampo, hanno molta qualità, però noi abbiamo tutti i giocatori dei campioni, quindi possiamo metterli in difficoltà in qualunque momento. Ho bisogno di affrontarla bene questa squadra. Brandelli aveva avuto per te parole molto buone in questi giorni, ha detto anche, soprattutto adesso che hai cambiato il ruolo, che giochi anche come seconda punta, ma sono esterno, non stacca a tre. E poi, o la tua prestazione è stata forse una delle migliori? A questo punto pensi di averlo convinto? No, evidentemente non lo do, io ho cercato di dare il meglio di me, perché tra l'ora mi giocavo una grande possibilità oggi, quindi ho cercato di dare il meglio di me, però il biglietto per il Basile non ce l'ho, perché mantranno 12 partite e sicuramente conteranno molto le 12 partite di campionato che mancheranno. Credi non è prenoti le vacanze da un'altra parte? No, assolutamente no, io comunque sono convinto delle mie qualità, quindi spero di andare in pratica, perché ho le possibilità di andare. Credi di avere anche delle caratteristiche un po' diverse da altri giocatori, che insomma per una serie di ragioni sia questo il momento di svolta della tua carriera. Sì, sono giocatori di età tipico, puoi giocare sia attaccante che da esterno, quindi questo modulo che quest'anno il mister mi ha dato, il mister Ventura mi ha dato e mi ha consolidato come giocatore, perché sono maturato anche in campo, però sicuramente devo ringraziare molto il mister perché è Ventura, perché penso che grazie a lui oggi ho avuto questa possibilità di giocare e di trovare contro la squadra.